iniziate a prendervi un po di tempo per voi stessi come semplici regole che vi portano a non sbagliare più a non avere uno stile di vita sbagliato magari mangiando cibo spazzatura o avendo una vita sedentaria o meglio ancora stare sempre stressati per la mancanza di tempo per la mancanza di organizzazione io posso darvi un semplice consiglio prima di tutto per riuscire a raggiungere gli obiettivi o raggiungere i risultati indesiderati dovete prima di tutto avere una un'organizzazione semplicissima che si basa in 45 step bisogna prima di tutto stare tranquilli avere una mentalità positiva avere la mente libera seconda cosa non bisogna essere attratti sempre dal cibo spazzatura magari per mancanza di tempo o magari perché non riuscite a farvi dei pasti sostitutivi sani terza cosa dovete iniziare a fare attività fisica semplice e sana attività fisica semplicemente potete tranquillamente iniziare a fare una camminata al mattino la sera pausa pranzo queste sono soluzioni che io posso dare a voi all'interno dei miei protocolli all'interno delle mie consulenze rivoluzionando il vostro corpo cambiando l'aspetto mentale che è la parte fondamentale per iniziare il percorso dando una cultura alimentare facendovi fare i giusti pasti i giusti spuntivi usando gli alimenti necessari e non cibo spazzatura e non bibite cassate e non bevande alcoliche e aiutandovi a trovare un programma di allenamento che sia personalizzato in base alle vostre esigenze in base al vostro stile di vita in base al vostro lavoro magari allenamenti cardio allenamenti al corpo libero che si possono fare sia da casa o sia in palestra per la partecipazione